Buongiorno, ben ritrovati negli studi del Tg2000, è il momento dell'informazione, allora vediamo i titoli. Governo sull'orlo della crisi, scontro frontale tra Conte e Renzi, il Consiglio dei Ministri dice sì alla riforma della giustizia ma senza i ministri di Italia Viva. Coronavirus aumenta ancora il numero delle vittime in Cina dove negli ospedali mancano le mascherine, attesa invece in Italia per il rientro di Nicolò. Clima caldo record in Antartide, il termometro supera i 20 gradi centigradi, mai registrata una temperatura così alta in quella regione. Dunque in apertura c'è la politica, via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del processo penale ma senza i ministri di Italia Viva. Fortissime le tensioni tra il Presidente del Consiglio e Matteo Renzi. A rischio c'è la stabilità del Governo. Ce ne parla Barbara Masulli. Sta camminando sul filo la maggioranza nelle ultime ore. Prima la diserzione di due ministri renziani dal CDM che ieri sera ha varato la riforma del processo penale e le modifiche alla legge Bonafede sulla prescrizione, ossia il lodo Conte bis contestato da Italia Viva. Poi il voto della stessa Italia Viva con le opposizioni su autostrade e intercettazioni. E infine il colloquio fra Conte e Mattarella, segno di un problema politico che va risolto. Il tutto scandito da un duro, botta e risposta fra il Premier e il leader di IVU, che pensa anche a una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia. Si chiarisca agli italiani cosa significa mozione di sfiducia nei confronti dell'operato del Ministro Bonafede. Capite che è proprio qualcosa che è irrazionale. Se mai ci fosse un'iniziativa del genere, il sottoscritto per assicurare credibilità alla politica ne trarrà tutte le conseguenze. Presidente, la palla tocca a te. Noi non abbiamo aperto la crisi. Noi non vogliamo fare polemica. Noi però le nostre idee non rinunciamo. Tu puoi cambiare maggioranza, caro Presidente del Consiglio. Lo hai già fatto del resto. Sai come si fa a cambiare maggioranza. Quello che non pensiamo tu possa dire è che noi siamo opposizione maleducata. Intanto oggi la Calabria accoglie Conte e il Ministro Provenzano, Gioia Tauro. E infatti la sede è scelta dal Governo per la presentazione del cosiddetto Piano per il Sud. Infrastrutture e nuove opportunità per i giovani troppo spesso costretti ad abbandonare la loro terra. Le parole del Premier su Facebook che aggiunge, se riparte il Sud, riparte l'Italia. Al centro delle tensioni dunque c'è la riforma della giustizia, i tempi della prescrizione, processi più rapidi e sanzioni per le toghe che sbagliano. Il punto con Luciano Piscaglia. Processi più rapidi, minor tempo per le indagini preliminari, sanzioni per le toghe negligenti. Sono i punti principali del disegno di legge sulla riforma del processo penale, adottato dal Consiglio dei Ministri, che contiene anche il lodo Conte bis sulla prescrizione. Il lodo modifica la riforma entrata in vigore il 1 gennaio, che blocca la decorrenza dei termini per la prescrizione dalla sentenza di primo grado e distingue invece tra assolti e condannati. Il blocco resta per i condannati, ma in caso di assoluzione in appello si potranno recuperare i termini di prescrizione rimasti nel frattempo bloccati. Una delle novità più rilevanti della riforma del processo penale riguarda però i tempi per i processi, che saranno prefissati, massimo 5 anni con l'esclusione di mafia, terrorismo e dei reati più gravi contro la pubblica amministrazione. Una stretta è prevista anche sui tempi delle indagini preliminari, modulati in base alla gravità dei reati, da sei mesi dall'iscrizione sul registro degli indagati per i reati minori fino a un anno e sei mesi per i reati più gravi, con la possibilità per il pubblico ministero di chiedere solo una proroga e per un massimo di sei mesi. I PM avranno però l'obbligo di chiedere l'archiviazione, pena l'apertura di un procedimento disciplinare, se gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari sono tali da far prevedere il non accoglimento dell'accusa in giudizio. E per contenere la durata dei processi e per la digitalizzazione del processo penale, entro il 2021 il Ministero della Giustizia potrà assumere a tempo determinato per 24 mesi mille amministrativi e 500 giudici ausiliari nelle corti d'appello. Un emendamento del Governo al decreto mille proroghe prevede che i medici potranno rimanere in corsia anche superati i 40 anni di servizio, ma comunque non oltre i 70 anni di età. Il decreto è stato approvato ieri dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Inoltre è stato deciso l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Circa 100 euro lordi in più al mese, ha stimato l'agenzia di rappresentanza negoziale con le pubbliche amministrazioni. Emergenza coronavirus, giriamo pagina, aumenta il numero dei morti in Cina, il mondo si blinda e l'Italia aspetta il ritorno di Nicolò. Il punto con Nicola Ferrante. Il decollo stamattina all'alba dall'aeroporto militare di pratica di mare, quando erano le 5 ed era ancora buio, una missione speciale che durerà meno di 24 ore. Il tempo ciò è strettamente necessario per riportare Nicolò in Italia. Torna a casa il 17enne originario di grado, studente a Wuhan, rimasto bloccato nella città focolaio del coronavirus, nonostante fosse risultato negativo ai test. viaggerà in condizioni di biocontenimento, come si dice in gergo, cioè su una barella attrezzata. L'aria, sia in entrata che in uscita, sarà filtrata per mantenere isolato il paziente ed evitare lo scambio di microparticelle del suo respiro. Attorno a lui una squadra di medici specializzati dell'esercito seguirà minuto dopo minuto, anche in volo, le sue condizioni di salute, l'atterraggio di Nicolò previsto per domani mattina alle 7. Nel frattempo continuano ad aumentare in Cina i contagiati, secondo il più recente aggiornamento comunicato dalle autorità sanitarie, ma ormai anche sui numeri non ci sono più assolute certezze. Nelle ultime 24 ore sono oltre 4.600 nuovi casi registrati, 121 i decessi che fanno salire a 1.383 il numero di morti per il virus. In queste ore inoltre è sbarcato un primo gruppo di 11 passeggeri dalla Diamond Princess, la nave da crociera ancora in quarantena nella baia di Yokohama in Giappone. Quelli sbarcati sono solo una minima parte delle oltre 3.700 persone a bordo, dove il contagio non si arresta, oltre 250 gli infetti in un incubatore perfetto. Qui invece siamo in Vietnam, le autorità hanno messo in quarantena un soborgo di 10.000 persone a ridosso della capitale Hanoi. Da oggi, come vedete, tutta la cittadina è tenuta in isolamento sotto legge marziale, con i soldati che controllano come una frontiera l'unico ingresso in città, dove parenti e amici portano il necessario per la sopravvivenza, ma niente a bracci vietati, solo un rapido scambio di patate e verdure. Dipingo per esorcizzare la paura, dice l'anziano fumettista Fan Fu Min, 70 anni, molto apprezzati in Cina i suoi disegni, ormai ritraggono solo mascherine, tute, medici, contagi, perfino il virus con la sua forma a corona. Questa primavera, i fiori di pesco non avranno lo stesso profumo con la mascherina sul volto. E il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tende ancora la mano a Pechino, dopo aver visitato una scuola romana frequentata da molti bambini cinesi. Ieri sera ha partecipato ad un concerto straordinario nella Cappella Paolina del Quirinale, un concerto che rientra nell'ambito dell'Anno della Cultura e del Turismo, Italia-Cina 2020. Un atteggiamento di amicizia verso la Cina che è stato molto apprezzato dal Presidente cinese Xi Jinping, che ha spedito un messaggio di ringraziamento al Colle. Il contenuto lo ha riferito lo stesso Sergio Mattarella, al termine del concerto. Sentiamolo. L'Italia esprime fiducia e sostegno alla Cina nell'emergenza contro l'epidemia, nell'impegno per assicurare la sicurezza sanitaria, anche internazionale. Abbiamo un amico comune nell'epidemia in corso. E come ha scritto il Presidente Xi Jinping nel messaggio che mi ha inviato, le difficoltà sono temporanee, le amicizie sono imperiture. Parliamo di clima adesso. Ieri in Antartide si sono toccati 20 gradi centigradi, un livello mai registrato in quella regione. Un'occasione adesso per riflettere sulla grave crisi climatica che sta attraversando il nostro pianeta. Marco Burini. Certo fa effetto sentire che al Polo Sud fa caldo come a Sanremo. Ieri per la prima volta sono stati superati i 20 gradi. Per la precisione 20,75 gradi Celsius, registrati nella stazione della Seymour Island. Da buon scienziato, il ricercatore brasiliano Carlo Schaeffer ha tenuto a precisare che un singolo dato non fa tendenza dal punto di vista del cambiamento climatico. Ma i dati e le anomalie si moltiplicano. Il mese di gennaio appena terminato è stato il più caldo di sempre in Antartide che, ricordiamolo, nei suoi ghiacci racchiude la più grande riserva d'acqua dolce del mondo. Ghiaccio ce n'è anche da noi, sulle Alpi, ma sempre meno. Anche qui è difficile capire fino a che punto sia un ciclo fisiologico o ci sia lo zampino dell'uomo. Ma per ogni evenienza, il presidente francese Macron ieri ha fatto una comparsata sul Monte Bianco, fiutando il clima, è il caso di dirlo, con un'opinione pubblica sempre più sensibile alla questione ambientale. Grazie ai giovani, che ispirati da una loro coetanea l'attivista svedese Greta Thunberg, non mollano la presa. Oggi, i cosiddetti venerdì per il futuro si tengono in Nuova Zelanda e Australia, stremata da mesi di incendi, e a Londra, per ripetere il grande sciopero di un anno fa in questo stesso giorno di San Valentino, che è di tutti gli innamorati, anche gli innamorati della terra. Magari quella che più soffre predatori e sfruttatori, come l'Almazzonia. Che rida a Mazzonia, per dirla con il Vescovo di Roma. Una foresta incredibilmente ricca di acqua, piante, animali e umani, che ci vivono da millenni, ma che vengono trattati come intrusi da scartare quando si tratta di decidere cosa farne. Bolsonaro, il presidente brasiliano che sull'ambiente è un negazionista convinto come il suo maestro Trump, ha appena presentato un piano che spiana la strada alle grandi aziende minerari e agricole, che un anno fa hanno sostenuto la sua elezione e ora passano all'incasso. E chi ci vive da sempre in Amazzonia non avrà voce in capitolo. Se il cambiamento climatico è ancora tutto da valutare, quello antropologico è evidente. Se conta solo il denaro, le persone sono sempre sacrificabili. Andiamo in Tunisia adesso a conoscere una scuola salesiana che da oltre un secolo è al fianco delle famiglie tunisine. Sergio Canelles. Nel centro storico di Tunisi, a due passi dalla Medina da quasi cento anni, già dal tempo, cioè del protettorato francese, poi dopo la nascita della Repubblica, opera una scuola con classi elementari e medie, da tutte riconosciute ed apprezzata per livello e competenza educativa. Questa scuola, che opera in regime di scuola privata, applicando quindi programmi didattici statali, è però gestita da religiosi cristiani, dai salesiani. I suoi cento anni di storia, ovvero una continuità attraverso i vari cambiamenti di epoche, confermano l'attaccamento a questa piccola istituzione da parte delle famiglie di tunisini. Ad oggi, infatti, la Don Bosco conta circa mille iscritti. In Tunisia siamo nove scuole cattoliche, con attorno a 5.500-6.000 allievi e sono molto appreziati dalla gente, ma da tanto tempo, perché hanno un buon ricordo del tipo di educazione che si dà, i valori, la sicurezza, la disciplina. I genitori ci fanno veramente fiducia e sono contenti di inviare i loro figli dalle nostre scuole, perché sanno che rispettiamo la loro religione, che non cerchiamo di fare il proselitismo e soprattutto che teniamo i valori importanti della vita e dell'educazione del ragazzo e della ragazza. E esattamente cento anni fa, due piloti italiani compivano un'impresa straordinaria. Parliamo della traversata aerea tra Roma e Tokyo, che nel 1920 era ovviamente considerata impossibile. Ce ne parla Vincenzo Grienti. Due biplani SVA pilotati dagli italiani Arturo Ferrarin e Guido Masiero diedero vita a un primato di volo che sarà ricordato come Raid Roma-Tokio. Grazie alle immagini fornite dall'Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare è possibile ripercorrere questa impresa conquistata dopo oltre tre mesi con l'arrivo nella capitale giapponese il 30 maggio 1920, dopo aver percorso oltre 18.000 km e 109 ore di volo. Alla trasvolata avevano preso parte quattro aerei Caproni e sette biplani SVA, ma la maggior parte di essi furono costrette ad interrompere la missione nell'Asia minore. I piloti Ferrarin e Masiero invece riuscirono a portare a termine il volo fino alla fine. Dopo una prima sosta a Gioia del Colle partirono per Salonico con un volo a vista a bassissima quota. Date le avverse condizioni atmosferiche, finirono per atterrare a Valona, da dove ripartirono il 15 febbraio per Salonico. Molte furono le tappe del volo, Smirne, Aleppo, Baghdad, Bdeli, Calcutta e molte altre tappe. I due piloti furono alle prese con le peggiori difficoltà. Poi rotta verso Rangoon, Bangkok, Hanoi, Canton, Shanghai, dove sostarono per sette giorni. Il successivo volo per Xin Zhao fu molto difficoltoso per la presenza di un tifone facendo temere il peggio per gli aerei e i piloti per le pessime condizioni atmosferiche. Infine Pechino, dove l'accoglienza fu trionfale. Giunti nella fase finale del viaggio, i piloti volarono a Koh Anse, Shinishu e Seoul in Corea, quindi ad Osaka. Il 30 maggio 1920, Ferrarina e Masiero raggiunsero Tokyo. È il momento adesso di terza pagina dove vedremo delle foto inedite di Federico Fellini al Santuario del Divino Amore, dove vennero girate delle scene inedite del film Oscar Le notti di Cabiria. L'informazione torna puntuale alle 18.30. Arrivederci.